Una prima uscita che è servita per mettere insieme le poche cose che abbiamo fatto in ritiro ma dopo una settimana di grande intensità e certamente questo ha un po' pesato sulle gambe soprattutto di chi ha lavorato meno quest'estate. Mi è piaciuta tantissimo la voglia di partecipare, la voglia di giocare insieme anche in difesa soprattutto. Non abbiamo fatto canestro ma sono certo che questo dipenda molto appunto quello che dicevo prima dalle fatiche del ritiro. Una squadra con grande energia e dovremo assolutamente usare queste vintevoli di prestagione per sbagliare e trovare così anche le soluzioni ai nostri errori però l'importante è che ci sia questo spirito che abbiamo visto anche questa sera.